Il Natale nella città di Santa Claus, organizzato da Cube Comunicazione e assessorato alle culture del comune di Bari, oggi vede protagonista la piazza Umberto del quartiere Carbonara, che sarà palcoscenico dello spettacolo Le Tradizioni. Si inizia alle 17.30 nella chiesa San Nicola a Catino, con uno spettacolo del teatro di Burattini per i più piccoli. Dalle 18 poi una street band animerà Corso Garibaldi, mentre alle 18.30 in contemporanea concerto di Alberto Joven e Trio nel Giardino Lubich della chiesa russa, e una seconda street band ad animare il centro da Via Manzoni verso Bari Vecchia. Alle 19 invece in Via Sparano passerà l'Euroband Morgias Street Band e alle 19.30 nella chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni il concerto di Natale a cura del coro pugliese della chiesa. Alle 21.30 infine il Bohemian Music Club ospiterà Essere Perfetto Music Contest 2.0, concorso per musicisti emergenti organizzato da OWT Studio. E domani, giorno della vigilia, mattinata fitta di appuntamenti tutti a partire dalle 11.00. La street band in Piazza Magrini e Corso Garibaldi nel quartiere Catino, il Silent Party DJ Set in Corso Vittorio Emanuele, il Festival di Musica e Arte Sperimentale Blip Mode, appuntamento di musica elettronica a cura dell'associazione Kaleidos, nell'Officina degli Esordi in Via Crispi. Per la sera di Natale, alle 18.00, l'appuntamento è al Teatro Chismet Opera, con la bella addormentata nel bosco della Compagnia La Luna nel Letto. Alle 21.00 invece, al Teatro Petrozzelli, andrà in scena Il Cotto e Il Crudo.